buongiorno a tutti e benvenuti siamo tornati sul campionato siamo tornati con una giornata abbastanza strana direi l'immagine copertina di questo video per la chiaro un grosso punto interrogativo su quello che è stato prima di tuffarci però sul ritorno della serie a intanto volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti chi si è già iscritto vi invito a continuare a farlo a mettere like se la cosa vi fa piacere abbiamo inaugurato l'anno del canale con la nuova sette sezione profile parlando di antonio cassano vi annuncio che diventerà un appuntamento settimanale quello della sezione profile quindi con un approfondimento su un certo tipo di giocatori soprattutto del passato passato recente diventerà un appuntamento settimanale ora ci tuffiamo sulla ventesima giornata parte subito la ventunesima nella giornata del 9 gennaio e poi martedì prossimo stiamo già lavorando per il nuovo video della sezione profile che sarà una sorpresa qui la il giocatore di settimana prossimo ora torniamo sull'attualità sul campionato che è tornato che è ripartito come detto con un grosso punto interrogativo per tutto quello che è stato l'extracampo il problema covid quattro partite rinviate si parla già di altre partite che verranno rinviate nel prossimo turno io non entrerei troppo nella questione perché poi diventa questione di punti di vista cosa avresti fatto tu cosa avresti fatto tu sarebbe stato meglio fare questo o quell'altro ci sono delle regole e vanno quando ci sono delle regole vanno seguite il problema appunto a volte sta nelle regole abbiamo visto squadre con 14 positivi giocare squadre con 11 positivi non giocare l'importante che si trovi una linea guida che si porti alla fine del campionato io penso che l'importante sia quando possibile giocare sempre ecco il limite diventa quando possibile ora vedremo cosa succederà se ci saranno rinvisi ci saranno partite vinte tavolino io spero di no perché credo che il giudizio debba rimanere sempre sul campo e mi concentrerai appunto su quello che è successo sul terreno di gioco sei partite giocate andiamo allora a parlare di questo che è la cosa che ci piace di più che ci riesce meglio partiamo dal big match che ha chiuso la prima giornata del girone di ritorno da juventus napoli juventus napoli 1 a 1 che ci ha detto tante cose sia in positivo che negativo partiamo dalle cose positive che si allacciano inevitabilmente al grosso punto di domanda dell'immagine di questo video il napoli che è partito con alcuni giocatori poi tre che dovevano rimanere fuori secondo un'azio non secondo un'altra spallati sono un caos totale che però poi si è tramutato in campo in una prestazione solida degli azzurri una prestazione concreta che ci ha dato degli spunti il napoli continua a giocare il suo calcio nonostante le assenze una coppia di centrocampisti quasi inediti quella arrivata gennaio di due anni fa con gattuso allenatore demme lobotka insieme titolari dietro romani juan jesus che sta diventando una coppia con con delle certezze era stata la coppia protagonista del fine anno della vittoria san siro sul milan della sconfitta con autogol di juan jesus anche sfortunata contro lo spezia è stata la coppia della partita vinta torino una della partita pareggiata torino scusate un napoli che ora può dare la classifica con qualche rimpianto e con il naso all'insù perché è vero che i punti della juventus sono sempre cinque quindi punti di distanza sul quinto posto non sono poi così tanti però però dico con gli impianti con il naso all'insù perché con il seco in mano non si va da nessuna parte ma le partite contro spezia empoli molto sfortunate per la squadra di spelletti varbbero proiettato ora il napoli ancora più in alto ancora più vicino all'inter che non ha giocato ieri contro il bologna una prestazione solida il napoli era passato in vantaggio ha subito il pareggio ha continuato a fare la partita sul risultato di 1 a 1 contro una juventus chiusa pagava magari l'assenza di centimetri davanti in petagna è entrato proprio negli ultimi minuti mancavo simen mertes è iniziato bene poi alla lunga quasi fisiologicamente si è spento ottima la prova di lorenzo insignia concreta di sostanza giocatore che sul pezzo nonostante tutto quello che sta succedendo attorno contro una juventus che invece aveva l'occasione per vincere per accorciarci sul quarto posto non l'ha sfruttata non l'ha sfruttata in nessun modo ha trovato il pareggio sul lampo di uno dei suoi singoli federico chiesa ha fatto una partita attendista a me non è neanche dispiaciuta troppo la juventus ma perché forse purtroppo mi sto abituando a un tipo di juventus tra virgolette rinunciataria difficilmente la juventus va a fare la partita la prende per il collo la zanna l'attende l'attende la partita e poi si rifugia che non è un bellissimo termine ma sui lampi dei singoli su quello del gol di chiesa sull'ingresso di di bala che è faticato a entrare subito in partita un morata sempre solo che cerca di fare quello quello che può juventus che rimane in scia per il quarto posto soprattutto grazie all'ottimo finale di a zirone di andata a livello di risultati ma la quale serve un secondo me un inversione un'inversione a livello del gioco perché non mi non ci sto la storia che i singoli non vanno bene che con mckennie che corrabbiò che commenta ancora alcuni dei giocatori sediti sul banco di imputati non si possa giocare diversamente secondo me si può giocare diversamente soprattutto si deve se si vuole tornare in champions league perché il napoli distante solamente cinque punti ma ieri abbiamo visto una rossa distanza tra le due squadre l'atalante distanza tra punti è una partita non semplice da recuperare contro il torino ma l'atalante è squadra molto diversa la juventus ha bisogno di un'inversione non credo che questa inversione possa arrivare dal mercato per intenderci lo scambio fuori morata dentro i cardi non penso possa portare grosse migliorie alla juventus di oggi che però ancora 18 partite una champions una capitale di mezzo la supercopa mercoledì prossimo per dirci che stagione vuol fare e se vuol fare una grande stagione una buona stagione deve essere sicuramente diversa da quella che abbiamo visto sino ad ora chi nell'emergenza totale come il napoli ha sfoderato una grande partita ha trovato però i tre punti è il milan il milan di stefano pioli alle prese con l'emergenza più totale una difesa reinventata con una coppia di centrali assolutamente inedita come calulu e gabbia coppie di centrocampisti con un tonali sontuoso affiancato prima da crunic e poi da un baccaiocco che sta cercando di ritrovarsi l'ingresso di leao quello di bremovic per dare polpa un attacco che ha trovato tre gol e due pali contro una roma inespressa la roma di murigno è stata una sorpresa in negativo ancora più della juventus della giornata di campionato appena conclusa sì ci sono gli episodi a che non hanno sicuramente letto bene la roma murigno ha protestato tanto sul al netto degli episodi però la prestazione della roma è stata incolore è nata subito sotto 2 a 0 ha cercato una reazione con un tiro deviato di abraham sul quale è stato strapitoso magnone ne parleremo nelle prossime settimane dei portieri di questa nuova serie a e della stagione solidissima che sta fornendo la portiere francese al milan ha trovato il gol in un'azione praticamente identica pochi minuti dopo e poi però di altre grosse occasioni ripeto al netto degli episodi sul quale murigno può anche avere le sue ragioni a protestare non ne avute il milan è stato roboante continuo nei 90 minuti ha segnato tre gole ha sbattato un rigore ha colpito due pali è stato forse uno dei milan più belli della stagione con tanti assenti il che ci porta a dire che i passi falsi non tanto quello di firenze ma soprattutto quelli con udinese e sassuolo del mese di dicembre scorso sono figli non solo ripeto delle assenze ma probabilmente anche uno di un cambio di atteggiamento che aveva avuto il milan rispetto gli anni all'anno scorso l'anno e mezzo appena passato che non ha prodotto risultati se il milan questo milan non va ai 100 all'ora non ha anche l'umiltà usiamo la cuore questa parola di andare a affrontare tutte le partite con il coltello fra i denti non ha le qualità secondo me che possono avere invece napoli soprattutto inter per rimanere là in vetta se invece il milan che avrà 18 partite ancora in campionato più la coppa italia e basta riuscirà ogni settimana a stare sul pezzo e mettere questa intensità allora allora si arriva fino alla fine non può arrivare fino alla fine il milan arriva fino alla fine mentre la roma credo che a livello di gioco e anche dei risultati ora inizi a essere tagliata fuori quasi definitivamente dalla corsa champions che aveva riaperto con il 4 a 1 di bergamo poi ha lasciato due punti per strada contro la sampdoria ma anche l'atlante aveva pareggiato il napoli si era fermato ora un altro stop arriva la fiorentina la juventus comunque rimarrà nella lotta champions penso fino alla fine per la roma per la roma si fa dura sta per arrivare il giocatore invocato in estate da morigno il profilo giusto quello del centrocampista arriverà sergio oliveira non più sciacca ecco questo può essere un fattore per la roma che però credo che sposterà il suo focus su coppa italia soprattutto conference league perché morigno vuol vincere l'ha detto inizio stagione quella una ghiotto occasioni in campionato il terreno da recuperare tanto il tempo è giusto ma il lavoro da fare molto è molto per colmare il gap con squadre più avanti soprattutto l'atlanta e il napoli nella corsa champions league che penso non vedrà protagonista l'avevamo detto nelle settimane scorse anche la lazio di sarri un altro stop contro una squadra che si sta affacciando tra le grandi la sorpresa del campionato l'empoli più 15 sulla zona salvezza a 18 partite dalla fine un successo quello di andrezzoli che ieri è iniziato forte all'olimpico poi è stato recuperato sarri è stato contento delle sue prove e paradossalmente può avere anche ragione la la lazio nel secondo tempo ha fatto un assedio alla porta dell'empoli vicario il protagonista dieci conclusioni possesso palla altissimo poi ha pagato dell'ingenuità come ha ricordato l'allenatore laziale la lazio è ventesimo nelle statistiche di serie a per quanto riguarda gli uno contro uno difensivi gol del 3 a 2 un suicidio sportivo clamoroso il dribbling in mezzo a due poi di francesco tutto solo due passi segna di francesco giocatore che mi fa piacere si stia ritrovando il gol del 3 a 2 è arrivato il pareggio nel finale un lazio che come detto la roma di murigno è un enigma può arrivare vedremo la lazio invece secondo me arriverà non quest'anno quest'anno il lavoro da fare è ancora tanto è stato esautorato di fatto lazari la coppia difensiva non ha mai dato troppe certezze c'è sempre rebus luiz alberto è tornato immobile che ha segnato però siamo ancora lontani da vedere quello che sarà la lazio di maurizio sarri che penso che nel futuro diventerà una squadra che lotterà ogni anno per entrare in champions per i primi tre a quattro posti quest'anno un anno di lavori di cantiere aperto e penso ormai sia sotto gli occhi di tutti 32 punti sono pochi per pensare di puntare a qualcosa di più che non sia uno sesto settimo posto a questo punto della stagione queste sono state le tre partite dell'alta classifica con un empoli che fa da raccordo 15 punti sulla zona salvezza ora il terzo ultimo posto è occupato del cagliari che ha fatto il colpo della giornata ha vinto 2 a 1 a genova la squadra di mazzarri si sta rilanciando il la sconfitta di torino contro la juventus ha dato qualche buon segnale rispetto però al 0 negativissimo dello 0 4 contro l'udinese sono arrivate buone indicazioni già torino rispetto a quella partita il colpo di ieri la seconda partita vinta di stagione sono pochissime due contro lo stesso avversario la samdoria sono pochissime però danno ossigeno 13 punti si sta ritrovando qualche fattore oltre giù pedro su tutti marin e pavoletti 13 punti meno tre ore della salvezza anche se io dico sempre di non fare questo conto ma fare il conto sui punti totali da fare però lo spezia perso dopo la vittoria contro il napoli 2 a 1 in casa contro un ottimo verona che sta continuando nella sua ottima stagione post di francesco mi dispiace ma contudo era un ritmo impressionante la squadra giallo blu sta trovando un fattore caprari che sta facendo di fatto dimenticare mattia zaccagni uno spezia che ha provato a riaprirla falcidiata anche essa dalle essenze però come il verone io credo che lo spezia ora vedremo il futuro di tiago motta rimarrà invischiato fino alla fine lì la vittoria contro il napoli è stata meritata per come è stata trovata tanta intensità tanta coraggio anche nel resistere però anche tanta fortuna giusto dirlo ora è arrivata la sconfitta contro il verona che mina le certezze che aveva trovato la squadra di tego motta nell'ultimo periodo e rientra nella corsa anche il genoa che ha strappato un pareggio il secondo consecutivo dopo quello con l'atalanta contro il sassuolo quasi in fotocopia di altre due partite pareggiate da scevcenco proprio quella contro l'atalante quella contro l'udinese tre pareggi zero vittorie le altre sono sconfitte un passaggio in coppa italia per un bottino molto magro del scevcenco rosso blu però mi verrebbe da dire che non potrebbero essere altrimenti vedendo il genoa giocare capisci che questo genoa ha poche poche skills nel suo bagaglio non arriva facilmente a tirare in porta non ha grossi individualità ha trovato un euro gol con matti a destra 8 gol in 13 partite lui si può e deve essere il fattore salvezza sta ritrovando un sigo su ottimi livelli però sono poche individualità all'interno di un gruppo povero a livello tecnico urge il mercato scevcenco lo ha ribadito vuole passare al 4 da 3 non ha i giocatori per farlo chi lo sta facendo in maniera un po diversa invece è il sassuolo un 4 da 3 quello di dionisi che ha lavorato non ottimamente prima della partita ha detto che avrebbe temuto molto la sfida contro il genoa è arrivato un pareggio berardi sempre più fattori sassuolo che dopo un inizio stentato e si è conquistato la fama di ammazza big si sta ritrovando in quello che può essere la sua dimensione conquistata negli ultimi anni metà classifica che è sempre un successo squadra come il sassuolo metà classifica in serie a questo è quello che ci ha detto fondamentalmente ecco la sei partite della ventesima giornata vedremo cosa succederà con le partite non disputate vedremo chi giocherà la seconda giornata di ritorno il 9 gennaio la ventunesima che andremo ad approfondire sempre qui sul nostro canale dove io vi do l'appuntamento quindi al post ventunesima giornata grazie a tutti